I giorni passano e Walter Taccone non sta di certo fermo e di vacanze per ora non se ne parla proprio. Agropoli può aspettare. Il presidente Biancoverde deve prima comprendere quale sarà il futuro dell'Avellino, anzi più che capirlo deve deciderlo. L'agenda degli appuntamenti è ricca e i prossimi giorni saranno quelli della verità. Domani incontrerà Giampiero Samori, imprenditore, avvocato e banchiere, fondatore della BPR, che già in passato si era avvicinato al club e vissi i suoi buoni rapporti con Taccone. E che dal calcio è attratto, nel Modena ha tentato ma non è riuscito ad entrare. Il giorno dopo, al massimo venerdì, il presidente è atteso da un altro faccia a faccia, quello con l'ingegnere Angelo D'Agostino. Per ora i due si sono sentiti al telefono, ci sono stati incontri tra alcuni emissari. D'Agostino appare cauto, considerata la trattativa dell'estate scorsa, ma molto interessato, d'altronde non lo ha mai nascosto, ad acquisire l'80% delle quote, un 20% infatti. Comunque vada, resterà Taccone che non vuole assolutamente cedere l'intero pacchetto dell'OS Avellino. L'altra pista aperta è quella che porta Gianni Moneti, leader nella distribuzione alimentare, mentre esce definitivamente di scena Giovanni Lombardi. No, guardi, è una cosa molto, molto vecchia, quindi non ho più, diciamo, di visto nessuno, quindi non sono, diciamo, non c'è nulla di, insomma, concreto. L'ex presidente della Casertana attacca anche i giornalisti, il re, di avergli fatto una cattiva pubblicità. Penso che il mattino mi abbia fatto una politica denigratoria, quindi non credo. È uno dei motivi per cui non sono interessato, per cui se una persona praticamente deve investire nel calcio e deve essere trattato così, insomma, è meglio che si sta a casa, quindi preferisco stare a casa con la mia famiglia. Cioè la colpa è dei giornalisti se lei non investe più nell'Avellino? No, non è una colpa nè dei giornalisti, non ho interesse, diciamo, a entrare nel mondo del calcio. Quindi la chiacchierata con Taccone si è conclusa, diciamo, è nata e finita. Io non ho, diciamo, è stata una chiacchierata amichevole, del tutto amichevole, su, insomma, su rapporti familiari.